E' brutto Ma che cazzo? Eh l'ho chiamato McRee Ma non lo sapevo scusate E' che non stavo laggando tanto e non capivo che cazzo GG eeeh 6.000 kill McRee UGL per le next elimination Ma quindi siamo sicuri? Si Ma sei sicuro sicuro sicuro? Ma eh l'ho chiesto No la richiedi veramente Non vorrei mai No speriamo di no perchè sennò laggo cazzo Ragazzi godetemi Silenzio per la mia play of the game No scherzo E' questa si Me l'aspettavo Vabbè guarda che pene però Un treno in corsa Poi quei pure arrivati Guarda E' come sparare sulla cruce rosso Vai Merti 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 Vai uno di loro No è uno di loro è uno di loro Ma no Dai Oh ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Alla fine Beh ok Ora posso rientrare su Twitch Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine